La contro favorita è Model Griff, l'allenamento si va a completare, un po' in ritardo mezzaluna HBD che si porta sotto in questo istante, si ritrae Model Griff e Di Galoppo Malibu Beach, si ritrae Margherita Duke, stacco della macchina con Meg Matley veloce insieme a Matura LB e soprattutto a Modish Wise che dal largo di tutti prova a convergere, mossa che riesce quando si imbocca la prima curva mentre arriva veloce dopo partenza cauta anche Model Griff, 13-9 lo strappo normale con il quale Modish Wise ha preso la testa, adesso bisogna vedere le scelte tattiche di Mauro Baroncini perché Model Griff punta subito dritto, l'idea è che la mandi via ma non è ancora detto mentre in terza posizione c'è Meg Matley avanti a Matura LB, 400 di corsa in 29-2 Model Griff ha ottenuto il prego si accomodi da Modish Wise che preferisce correre sotto, rimane così aria in faccia Misvolo Rivarco che si trascina Malafemmina, Model Griff arriva a completare i primi 600 di gara in 44-6, 36 dall'imbocco della curva fino al paro poi il passaggio, seconda sotto c'è Modish Wise, terza c'è Meg Matley di fuori Misvolo Rivarco con in scia Malafemmina e Margherita Duke, quarta sotto Matura LB. Si arriva a completare la metà gara, 400 in 31-1, 800 in 1 minuto e tre decimi, sta per finire la seconda curva, si andrà di fronte alle tribune, non cambia nulla, Model Griff precede Modish Wise che ha di fuori sempre Misvolo Rivarco, quando siamo a 6.50 dal traguardo, in seconda pariglia Malafemmina, il chilometro in 1.15-7, 31-1 dal palo sino a metà del top posto, misura abbastanza tattica ma che basta per mettere in crisi Misvolo Rivarco che crea un po' di intralcio, a Malafemmina in bocco dell'ultima curva migliorano quelle di dentro, Model Griff è leader, Modish Wise seconda e Meg Matley è terza, 31-1 anche questo parziale, 1-31-4, tre quarti di miglio, Modish Wise fila da vicino, Model Griff ha perso una lunghezza sull'allungo, Meg Matley, mentre prova a progredire Margherita Duke, viene alla terza pariglia, spostato intanto Modish Wise, frusta addosso può attaccare Model Griff che per il momento controlla ancora la situazione, quando siamo all'ingresso della retta d'arrivo, Model Griff di dentro, Modish Wise la attacca, le due testa a testa, più indietro Margherita Duke, Modish Wise va su Model Griff che peggiora di camminata, Modish Wise passa a 50 metri dal palo e viene a vincere nei confronti di Model Griff che non è finita perfetta, al terzo Margherita Duke, 31-8 l'arrivo abbastanza lento, anzi lento, 2-3-2 il tempo totale che porta la media a 1-17, nelle immagini Modish Wise che aveva condotto, peggiora un po' di camminata, Marco Smorgon si deve accontentare, Modish Wise ne approfitta, passa a 50 metri dal palo, vediamo che mette la testa davanti a quella dell'avversaria, Modish Wise viene così a vincere nei confronti di Model Griff mentre bene a centropista ha finito al terzo Margherita Duke. La vittoria è la sesta di San Siro di Modish Wise, Mauro Baroncini che neanche...